Milano Centrale, stazione di Milano Centrale Le TGV numero 4641 a destination di Lyon-Bardieu, parta 19h08, parta x3. Il deserre Colmar, Mulhouse, Belfort-Mobéliart TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Dijonville, Chalon-sur-Saône. Malmo, ce train comporte un service de restauration. Attention, ce train est accessible seulement aux voyageurs et aux services. Il deserre Colmar, Mulhouse, Belfort-Mobéliart TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Besançon-Franche-Comté TGV. Il deserre Colmar... Il deserre Colmar... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.